Oltre che un investimento per la mia persona, sono contenta perché questo è un investimento anche per la mia organizzazione, la quale ha creduto in me e ha deciso di pagare direttamente questa mia formazione al Master. Penso che appunto sia un'opportunità grande anche per loro perché sto facendo un project work e un annual fund plan, sto progettando i prossimi passi da muovere proprio all'interno dell'organizzazione e appunto fra un anno io mi vedo esattamente nel posto dove sono adesso, magari con un team dedicato alla raccolta fondi e con gli strumenti che il Master ha fornito sia a me che alla mia organizzazione. Grazie